Per la merenda, una notizia fantastica, sulla Gazzetta di Parma c'è proprio una notizia quando la librica fa storia, cioè a Parma riprendono al Teatro Regio e dopo, dal 2005 che non la facevano più, l'aida di Giuseppe Verdi, quindi siccome dopo andiamo a Busseto per questa tappa, gli sto benissimo, mi sembra proprio una bella coincidenza. Voi state giocando, eh? Sì, sì! Nooo! Che la farà? Giuseppe Verdi, perché lui scogliava in questa stanza qui, quando era il vento. Poi, il primo pianoporte che è ancora originale, questo non funziona, però. Non funziona mai, si può aprire? Sì. Ecco. Grazie. Grazie. Grazie veramente. Io ti faccio, eh? Grazie, grazie a tutti. Ma che acqua! Ma che sabrina! Mia! C'è posto per te! Spedicolato. Ti presento un mio mito. E chi è? Chi dici? Ti presento un mio mito. Corto Maltese. Chi è Lupene? Non è Lupene, è Corto Maltese. Non è Lupene, è Corto Maltese. Non è Lupene. Vi racconti io. Bella via! Io sono Marco Ferretti. Frongezzetto. Non è Lupene, non è Ecco. Neodese. È tutta un mio mito. No! Neodese. Non è!